22 ottobre, Sondrio, mi raccomando, aspettatemi. La storia si ripete, un passato che ritorna, vicende che si ripropongono anche approfittando dalla nostra scarsa memoria. Il progetto Life After, in provincia di Sondrio, vuole quindi recendere riflettori sulla Carvana per la Pace, che attraversò i Balcani nel 1991 e arrivò a Sarajevo alcuni mesi prima dallo scoppio di quella guerra. Un conflitto che oggi, seppur lungo confini diversi, si ripete, ma il progetto Life After sarà anche l'occasione per una riflessione più generale coinvolgendo il mondo della scuola e tutta la cittadinanza. Il progetto culturale parte dalla mostra che sarà inaugurata sabato nella Sala Ligaria Palazzo Muzio, ma si articolerà poi in una serie di eventi, incontri e riflessioni per tutto il mese di ottobre. È un progetto articolato perché sono articolate le associazioni che hanno partecipato a questo progetto, associazioni di diverse estrazioni culturali, estrazioni religiose e all'interno di un mese, dall'1 al 29 di ottobre, si alterneranno attraverso la presenza nella mostra e attraverso eventi specifici che verranno illustrati nel dettaglio all'inaugurazione di sabato 1 ottobre a partire dalle 9 e mezza, proprio in Sala Ligari, Sala Mostra di questo palazzo. Perché questo titolo, Life After? Perché è un invito alla memoria. Life, vita, after, dopo. Dobbiamo avere consapevolezza di quello che nella storia accade al genere umano e non possiamo dimenticarci i drammi, le tragedie che purtroppo hanno costellato la nostra storia a partire dall'Europa e dalla realtà balcanica che è proprio accanto a noi. Già in occasione della presentazione a Palazzo Muzzo si è entrati nel vivo della discussione grazie agli interventi dei relatori, a iniziare da Don Andrea Del Giorgio, Marina Gugiatti ed Emanuele Campagna, ma emozioni speciali sono arrivate da Luigi Lusenti, collegati a un remoto che ha ricordato quella carovana per la pace, che ha fatto la storia dando voce alle forze migliori della società civile, ai pacifisti, a chi si opponeva a un conflitto assurdo che divenne poi tremendo con il passare degli anni. E poi c'è il tema dell'Europa, ieri, oggi e domani. Questa mostra fotografica che oltre a essere una mostra sarà a sede di eventi, ogni settimana ci sarà almeno un evento importante, in particolare per quanto riguarda la mia organizzazione noi partiremo dalle radici del processo di integrazione europea che riteniamo sia nel manifesto di Ventotene, cioè quella pubblicazione, quel documento scritto nel 1941 in piena seconda guerra mondiale in cui si guardava avanti. Il progetto prevede l'esposizione di fotografie scattate durante la carovana e poi nei quattro anni di assedio di Sarajevo, il tutto arricchito da tanti racconti di esperienze dirette e indirette, molte le associazioni coinvolte, compresi i partigiani. Perché i partigiani, a differenza di quanto si possa pensare, loro hanno combattuto con le armi, ma però si sono battuti per la pace, per la libertà e la pace, che sono due concetti che difficilmente possono essere disgiunti. Quindi noi siamo per i partigiani che hanno combattuto, siamo per la difesa della libertà e siamo per la pace, naturalmente a condizione che la pace sia una condizione che altri non vengano a violare. Per l'agenda completa degli eventi vi rimandiamo innanzitutto all'inaugurazione della mostra sabato mattina a Palazzo Muzio. Da lì potrà iniziare il nostro comune viaggio di ricordi ed esperienze legate alla carovana della pace del 1991.